Ciao a tutti! Oggi faremo la challenge più imbarazzante del mondo! Perché ti brontola il pancino, Winnie the Pooh? E' un po' di fame, ricampetti nel pancino. Si sempre pensa al miele. Comunque, facciamo la challenge più imbarazzante. Tocca a Puffo, tu devi fare... Devi lanciarti l'acqua addosso. Ok! Oh, ma se mi verso l'acqua addosso, allora devo fare poi il ruttino. Si, devi fare un rutto! Che ruttone, per vedere una cosa, bambini. Non ruttate, perché questo è da bambini maleducati. E poi io non sto ruttando. E' solo un effetto speciale. Comunque, Puffo ha ruttato. Ma è un ruttone gigantesco, Puffo! Eh già, mi sono liberato tutto perché guardate un fungo che ho mangiato. E mi sono liberato il pancino. Ma è imbarazzante, Puffo! Sì, però questo non significa che devi fare solo un rutto. Devi fare il doppio dei rutti! Questo non ci voleva, oh no! Devo fare un altro rutto! Eh sì, devi fare un altro rutto! Oh, ma questo rutto è peggio di quello di prima! E' infatti un po' esagerato! Scusate, scusate a tutti! Adesso, tocca a te, Winnie the Pooh! Devi cambiare la voce! Oh, non so se sono in grado, ma ci provo! Bene! Faccio una canzone, cambiando la voce! Complimenti, Winnie the Pooh! E' riconoscibile con quella voce! Complimenti! Ma hai cambiato proprio voce, Winnie the Pooh! Bravissimo! Adesso tocca a Spank! Tu devi fare... Devi, 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 devi... Devi, 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 devi... Devi cantare per molti... Per molte ore! Ma cantare per molte ore è lunghissimo, è certo! Sono distrutto! E tu sei il vincitore, perché visto che hai cantato, hai cantato una bella canzone più di quella di Winnie the Pooh, hai ricevuto questo regalo di legno! Evviva! Ragazzi, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale! Ciao! 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 Ciao!